Eccoci di nuovo qui al Salone del Risparmio, dal Centro Congressi Mico di Milano, siamo con Marco Ravagli, Global Emerging Market Portfolio Manager di DWS. Parliamo appunto di mercati emergenti, perché comunque di fatto è il focus principale del quale avete parlato, del quale comunque vi si state concentrando, ecco, mercati emergenti, che opportunità vedete in questa fase? Fondamentalmente sono 5 motivi per investire secondo noi nei mercati emergenti, dopo diversi anni difficili vediamo una crescita, una visione macro globale migliore degli anni passati, quindi vediamo una buona crescita macroeconomica che di solito aiuta i mercati, i proprio emergenti li favorisce, vediamo una crescita degli utili maggiore rispetto a quella degli anni scorsi, ci aspettiamo una crescita degli utili intorno al 18% per i mercati emergenti per quest'anno. Il terzo motivo è che le riforme implementate da una serie di nuovi leader in tutti questi paesi, non solo la Cina ma anche l'India, Sudafrica e la Corea, finalmente evolvono al termine, quindi dopo due anni in cui le riforme hanno rallentato il sviluppo economico, adesso dovrebbero entrare in una fase in cui le riforme finalmente dovrebbero aiutare la crescita. Il quarto motivo è che i flussi dei fondi che sono un indicatore importante della confidenza che gli investitori hanno nei confronti di questi mercati, sono stati estremamente positivi nell'anno passato e quest'anno abbiamo visto che è iniziato comunque con flussi di fondi molto forti. Il quinto motivo molto importante secondo me è che gli investitori locali sono diventati molto molto importanti per questi mercati, negli ultimi due o tre anni gli investitori cinesi e indiani si sono rivolti più verso i loro mercati che non verso i mercati storici come l'America e gli altri mercati sviluppati. Crediamo che questo di nuovo sia molto importante, sosterrà la crescita dei mercati e anche per certi versi aiuterà alcuni settori, in particolare quelle delle piccole e medie aziende, a crescere. Bene, noi ringraziamo Marco Ravaglio di DWS per essere stato con noi, grazie Marco. Grazie a te. Grazie a voi per averci seguito, alle prossime interviste qui dal Salone del Risparmio. Grazie.